Il romanzo è diviso in sette capitoli. Francesco Sole, producer, autore televisivo, conduttore, tv e influencer, nei tuoi post parli in modo quasi costante delle donne e del loro potere personale. Da cosa nasce questa attenzione per il mondo femminile? Allora, a parte che hai mancato scrittore, ma soprattutto cuoco... Ci arrivavo dopo. Io cucino benissimo, privatamente cucino benissimo. No, da cosa deriva? Da semplicemente una passione di capire l'altro. Poi non per forza le cose che scrivo sono identificative di un genere. È ovvio che le donne naturalmente sono più empatiche, io credo, e quindi sono maggiormente ascoltato da loro in quello che scrivo, ma in realtà non è che ha un genere definito. Mi piace però raccontare spesso di quello che magari possono esprimere, possono motivare, possono ispirare le donne e io credo che ce ne sia anche bisogno, soprattutto da il genere maschile, spesso e volentieri viene visto come un segno magari di debolezza o di raffinatezza il celebrare o cercare anche punti di ispirazione o di motivazione in quello che è, diciamo, se vogliamo, tutto quello che rientra nell'universo femminile. Io credo che invece ci sia una grandissima forza e anche una grandissima ispirazione per non solo le donne stesse ma anche per noi uomini. Prendersi cura di se stessi è un concetto che ritroviamo molto spesso nei tuoi post. Sì. Come mai? Perché prendersi cura di se stessi? In che senso? Come? Come? Allora, è una domanda molto larga, molto grande. Io credo che comunque mettersi a volte davanti quotidianamente a quello che facciamo, quindi anche mettere in discussione le nostre abitudini, le routine, cercare di anche nelle relazioni non vedere sempre la relazione di coppia come io e te, ma ci sono anche io e ci sei anche tu e quindi ritrovarsi ciclicamente in un discorso anche soggettivo. Io credo che imparare ad ascoltarsi sia un primo passo per cercare di capirsi anche meglio e capire come poter ascoltare anche gli altri. Parliamo del tuo romanzo, La storia d'amore che ti cambierà la vita. Può veramente una storia d'amore cambiare la vita? La cambia una volta o la può cambiare più volte? Allora, sì, può farlo. Come? È la domanda. Leggi il libro e troverai una bella risposta. E tu l'hai già avuta, La storia d'amore che ti ha cambiato la vita? Sì, più di una. Me le tengo tutte nel cuore.